bene buon fine settimana a tutti e benvenuti al consueto appuntamento del fine settimana dove in pratica andremo un po ad analizzare quello che è successo sia durante la settimana come si sono fermati i principali i principali cross valutari in particolare daremo spazio oggi per quanto riguarda alle major è stata una settimana insomma dal punto di vista per chi ha seguito i miei segnali sia sulla chat telegram che praticamente sul per mail praticamente è stata una settimana abbastanza interessante ci sono state diverse chiusure positive ovviamente manca ancora una settimana alla fine del mese di marzo e quindi ci sono anche ancora cinque giorni di operatività al momento abbiamo uno score per quanto riguarda solo le operazioni che sono state inserite nel mese di marzo sui mille punti mille a cento punti ovviamente ci sono diverse operazioni a mercato il fine settimana diciamo che è iniziato diciamo che giovedì iniziato bene abbiamo diverse abbiamo raggiunto diverse ho chiuso diverse operazioni a mercato con vari altri profitti mentre fine settimana purtroppo c'è stato qualche incongruenza per quanto riguarda i segnali però ovviamente siamo ancora a mercato quindi siamo ancora in gioco per quanto riguarda appunto la la possibilità appunto di poter racimolare qualche altro punto e in più quindi poter migliorare appunto il la possibilità appunto di poter chiudere il mese di marzo almeno con un un obiettivo oltre i mille punti guadagnati bene come ben sapete da metà marzo iniziato anzi forse un po più si da metà marzo la settimana scorsa ho iniziato anche ad operare a seguire chi mi segue ad operare anche sugli indici in particolare sul dax e quindi poi questo continuerà anche nel mese prossimo implementando anche altre altri asset per quanto riguarda per quanto riguarda sia l'azionario le commodity e gli indici bene vediamo subito che cosa è successo nell'ultima seduta della di ottava abbiamo una chiusura in parità per i listini europei il dax che è chiuso a più 0,20% l'ibex a meno 0,15% il cac di parigi a meno 0,24% il fuzzi londra a meno 0,05% ed il piazza affari che praticamente si mantiene sulla parità praticamente chiudendo appunto la settimana con un più 0,10% quindi è stata l'ultima giornata del mese di marzo dell'ottava ha chiuso praticamente vedete senza diciamo dei colpi importanti bene per quanto riguarda i news macroeconomiche che sono state rilasciate proprio nell'ultima ottava al venerdì ieri in giappone il pmi manufatturiero secondo la lettura preliminare si è attestato a marzo a 52,6 punti dai 53,3 della passata rilevazione l'indice pmi manufatturiero della germania si è attestato a marzo secondo la prima lettura a 58,3 punti in deciso rialzo rispetto ai 56,8 punti di febbraio si tratta dei massimi livelli da 71 mesi gli analisti si aspettavano invece un calo dell'indice che misura il sentiment dei direttori degli acquisti a 56,5 punti si ricorda che un valore del pmi superiore ai 50 punti indica un'economia in espansione mentre inferiore in fase di contrazione sempre nella germania poi è stato rilasciato anche l'indice pmi dei servizi che a marzo secondo la stima preliminare la prima lettura risultata a 55,6 punti dai 54,4 punti di febbraio superando le attese degli analisti a 54,5 punti a febbraio invece l'indice statunitense che misura l'andamento degli ordini di beni durevoli ha segnato un più 1,7% mensile e gli analisti hanno stimato un 1,1% vediamo la settimana prossima che cosa ci offrirà il calendario macroeconomico diciamo da una prima analisi non è una settimana con dei market mover importanti l'ultima settimana appunto dove poi lasciamo il mese di marzo è una settimana praticamente abbastanza tranquilla non ci sono c'è qualche indicatore macroeconomico però praticamente non come le scorse settimane che abbiamo avuto una settimana addirittura che praticamente ci sono state addirittura nello stesso giorno tre meeting di banche centrali bene vediamo partiamo da lunedì 27 dove non c'è nessuna notizia rilevante mentre martedì 28 nella sessione europea non abbiamo niente quindi passiamo direttamente alla sessione americana dove alle 13.30 c'è la bilancia commerciale degli Stati Uniti di febbraio poi alle 15 la fiducia dei consumatori americani nel mese di marzo e poi alle 15.10 dal Canada c'è una conferenza stampa del governatore della banca centrale Poloz a Oshawa mentre alle 17.15 un'altra conferenza stampa questa volta sarà la Yellen ad appunto in conferenza stampa mercoledì 29 invece abbiamo un unico dato quello è il consueto dato relativo appunto alle scorte di petrolio americane alle 15.30 poi passiamo a giovedì giovedì anche qua la mattinata è tranquilla quindi il primo dato interessante è alle 13 con l'indice dei prezzi al consumo della Germania del mese di marzo poi alle 13.30 abbiamo un doppio appuntamento dagli Stati Uniti prodotto interno lordo annualizzato e la richiesta dei sussidi di disoccupazione del relativo al 25 marzo poi venerdì 31 quindi chiudiamo il mese di marzo con alla mezzanotte e 30 dal Giappone il tasso di disoccupazione e indice dei prezzi al consumo di febbraio alle ore 2 l'indice PMI manufatturiero di marzo e alle 8.55 dalla zona euro la variazione dell'occupazione e il tasso di disoccupazione della Germania alle 9.30 dalla Gran Bretagna il prodotto interno lordo alle 10.00 dalla zona euro l'indice core dei prezzi al consumo e alle 13.30 dal Canada il prodotto interno lordo del mese di gennaio bene adesso passiamo ad guardare quindi questi sono i miei contatti quindi per chi vuole ancora c'è ancora una settimana di tempo per poter partecipare alla chat telegram gratuitamente quindi a servizio dei segnali sia per mail che direttamente all'interno della chat telegram e anche per quanto riguarda la diretta live ricordo che poi dal 1 aprile i servizi saranno solo di esclusiva competenza dei clienti di teletrade bene ora passiamo direttamente all'analisi delle major allora per quanto riguarda l'euro dollaro bene l'euro dollaro vedete praticamente anche in un'ottica partiamo dal mensile siamo su una trend line dove praticamente è stata testata per ben allora è stata testata il in pratica è stata testata adesso andiamo a vedere un attimo un attimo solo che allora è stata testata il l'otto marzo del 2015 il 29 fine novembre del 2015 e poi praticamente vedete qua qua il prezzo ha rotto classico pullback discesa adesso vedete praticamente l'ultima volta è stata toccata il 29 gennaio 2017 adesso c'è un altro quindi da un supporto dinamico è diventato un cioè da un esatto una trend line da un supporto dinamico è diventato quindi una resistenza vedete quindi abbiamo toccato questa zona quest'area ora quindi dobbiamo vedere quindi già c'è una farsa rottura si individua qua vedete c'è una farsa rottura i compratori hanno tentato in settimana di superare questa zona però senza riuscire riuscire per quanto riguarda invece il giornaliero abbiamo anche qua una trend line questa volta ribassista e il prezzo vedete praticamente stiamo su questa zona una zona dove praticamente mi ha permesso di poter rientrare sell però in un ambiente cioè ho inserito un pendente sell che poi è stato attivato venerdì in questo momento quindi siamo in vendita ovviamente su un'ottica più rivolta su H4 questo perché perché praticamente sulla debolezza sono entrato sell appunto guardando la debolezza del dollar americano dove se per esempio andiamo a vedere allora il il future che misura il dollar che misura la forza del dollar index quindi la forza del dollar americano nei confronti di un paniere di valute vedete praticamente siamo arrivati dopo siamo arrivati nuovamente a toccare i minimi gli ultimi minimi relativi che sono stati toccati esattamente il 2 febbraio del 2017 eccoli qua quindi manca non siamo arrivati proprio ai minimi veri e propri perché praticamente stavamo esattamente è stato toccato 99.17 però si è chiusa la settimana al di sotto i 100 punti c'è stata questa fase di flessione praticamente come un vero e proprio ciclo vedete in pratica siamo arrivati alla fine fondamentalmente dal primo febbraio fino ad oggi fondamentalmente siamo arrivati quasi allo stesso punto di partenza bene ovviamente quindi si evince qua una fase di debolezza da parte del dollaro americano e infatti vediamo anche per quanto riguarda la forza delle singole valute la performance delle singole valute relativa alla settimana vedete praticamente abbiamo 1 yen che praticamente è quello che ha avuto la maggiore performance è riuscito a raggiungere a guadagnare esattamente l'1,23% seguito dal franco dalla serlina dall'euro e dalla nuova zelanda e dal dollaro nuovo zelandese mentre invece chi ha avuto la peggiore performance fra le valute più importanti nel mercato valutario è il dollaro australiano che chiude a meno 1,04% bene ritorniamo di nuovo all'euro dollaro su 4 ore e quindi praticamente io sono entrato diciamo ho inserito un pendente seller che poi è stato dirigerato venerdì appunto sulla debolezza del dollaro americano molto probabilmente vedete anche qua siamo arrivati a un punto di massimo che è stato raggiunto proprio sul punto x dell'inizio del pattern armonico che poi ha dato i suoi frutti esattamente il 2 febbraio quindi vedete come anche qua è stato disegnato una campana rovesciata dove siamo arrivati quindi al punto di partenza quindi praticamente siamo agli stessi prezzi del 2 febbraio quindi in mese di marzo la salita del mese di marzo ha letteralmente quindi annullato la discesa del mese di febbraio quindi questa è una zona molto interessante dove praticamente potrebbero partire delle vendite anche perché in questa zona dove ho disegnato questo rettangolo rosa quest'area rosa potrebbero ripartire nuove vendite quindi c'è una maggiore pressione da parte dei venditori bene adesso passiamo al dollaro yen allora eccolo qua allora per quanto riguarda il dollaro yen arriviamo prima settimanale anche qua vedete abbiamo una trendliner bassista toccata tre volte testata anzi uno due tre quattro volte quattro volte quindi praticamente vedete è stata testata qua poi ha rotto allora per quanto riguarda questa settimana il prezzo allora praticamente c'è stata diverso esattamente dal nove della settimana del nove ottobre quindi inizi del mese di ottobre del 2016 il prezzo si è mantenuto sempre al di sopra la media 21 questo è stato poi è stata testata diverse volte questa settimana invece c'è stata la chiusura quindi dal nove ottobre quindi una prima la prima chiusura a partire dal nove ottobre al di sotto la media 21 quindi ciò sta a significare una maggiore forza da parte dei venditori però nel lungo termine in ottica giornaliera anche qua si evince un passaggio al di sotto la media 21 vedete praticamente una chiusura una chiusura sotto 113.02 e un ritesto a 113.34 quindi che poi è stato risentito e poi c'è stato questa fase in cui dal shadow si evince che il movimento ribassista iniziato proprio su questi minimi in pratica qua sembra che ha tirato un po' un sospiro di sollivo se passiamo su H4 invece praticamente infatti questo sospiro di sollivo potrebbe riportare una prima fase di correzione al movimento di questo movimento short ecco perché ho inserito un pendente by stop che ovviamente non è stato ancora triggerato il pendente by stop è stato inserito anche grazie anche alle indicazioni di questa bullish shark sul time frame a H4 dove praticamente si evidenzia quindi una possibilità in quest'area X di un rientro da parte diciamo di una fase rialzista al momento siamo ancora in uno stato embrionale del movimento quindi siamo in un'area di congestione su H4 con i prezzi le candele più che altro che si mantengono sempre di sotto la media 21 ovviamente io ho già inserito un pendente by stop perché per non essere impreparato alla possibilità di un forte strappo rialzista durante la prossima settimana passiamo invece ad dollaro yen no stellina dollaro allora per quanto riguarda invece la stellina dollaro allora qui questa è un'area che un'area di un'area di un minimo assoluto vedete qui si allarga un po' più il grafico sto analizzando dopo questo forte movimento short si è formata un test spalla rovesciato questa è la neckline disegnata in giallo anche se fondamentalmente vedete c'è questa situazione dove praticamente vedete è ancora siamo ancora sotto la neckline quindi in pratica non è stato ancora non è stata ancora rotta la neckline fondamentalmente però già ci sono i primi segnali di un possibile movimento realzista questo però in ottica settimanale mentre in ottica giornaliera in un'ottica giornaliera io ho inserito in un'ottica giornaliera qua ci sta un se passiamo sul daily eccoci qua allora in questo momento sembra che il prezzo si sia fermato c'è un primo stop quindi con una candela rig bassista questo lo possiamo vedere soprattutto su h4 ecco perché sono entrato sell qui il prezzo vedete c'è una micro resistenza dove il prezzo si è fermato classico movimento pullback e poi una discesa dopo praticamente siamo quasi sulla parità per quanto riguarda il su h4 mantengo al momento le indicazioni short e ho messo un target su un area se andiamo a restringere un po' il grafico vedete un'area molto importante che è stata testata dove poi passa anche un mio supporto 1.24 e 20 però quest'area disegnata in giallo vedete è stata più volte messa sotto torchio nelle passate nei giorni passati passiamo a usd chf bene su usd chf qua in settimana abbiamo preso profitto questa è un'altra operazione che ho chiuso con in profitto a 70 punti su settimanale al momento vedete c'è una trend line che si mantiene che mantiene i prezzi al di sopra anche se abbiamo una situazione dove anche qua abbiamo una chiusura confermata largo un po' più grafico abbiamo una chiusura sotto la media 21 e quindi poi dopo la settimana in che si è chiusa proprio ieri praticamente abbiamo una chiusura al di sotto il minimo della scorsa settimana quindi un chiaro e forte segnale ribassista la situazione si vede proprio sul giornaliero dove la trend line praticamente è stata rotta ritestata e poi il prezzo è sceso giù è attestato in questo momento il livello 0,98 e 92 fondamentalmente per quanto riguarda questa situazione abbiamo in questo momento abbiamo ancora la possibilità di poter rientrare nuovamente in vendita perché da quest'area di massimi praticamente c'è una continuazione del movimento ribassista ovviamente in ottica h4 in ottica h4 sto aspettando in quanto praticamente abbiamo toccato è stato toccato 0,98 e 92 vedete c'è un ritest proprio qui e aspettiamo maggiori notizie da parte dell'azione del prezzo per poter poi entrare nuovamente a mercato in vendita passiamo a auto sd allora il settimanale allora sul settimanale il prezzo sono diverse settimane che rimbalza su 0,75 e 95 su questo livello voglio restringere un po' più il grafico per vedere un attimo eccolo qua vedete quasi vede meglio è un livello molto importante la settimana si è chiusa short però vedete c'è stato proprio il test di 0,75 e 95 passiamo al giornaliero e vediamo un attimo allora per quanto riguarda il giornaliero potrebbero potrebbe ripartire un ulteriore movimento rialzista con la possibilità di un rientro a 0,77 e 0,2 andiamo su H4 ovviamente in questo momento vedete su H4 invece la situazione non è tanto chiara perché mentre sul giornaliero sembra che ci possa possa esserci anzi praticamente no 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 ci può essere allora siccome siamo al di sotto la media 21 sotto 0,75 e 95 praticamente potremmo entrare al ribasso quindi una rottura sotto 0,75 e 95 qui potremmo puntare verso 0,74 e 48 se passiamo ad H4 vedete cioè sembra che il movimento che iniziano su questa zona cioè il test di 0,77 e 0,2 il test anche di questo altro rettangolo ovviamente dove poi in settimana abbiamo preso ulteriormente profitto sembra che il prezzo vuole fare una una classica fase di correzione cioè una flag di correzione però ovviamente aspetto ulteriori indicazioni da parte della price action per poter entrare a mercato quindi in vendita poi abbiamo passiamo a USDCAD allora USDCAD in un'ottica settimanale allora qui sono buy sono sulla parità sono buy perché settimanale mi dà una chiara intenzione anche se non è proprio pulito però siamo sopra la media 21 test della media 21 e quindi la situazione rimane rialzista sul giornaliero eccolo qua anche la media 21 qua sul giornaliero mi dà una indicazione long sul settimanale sull'H4 anche su H4 al momento un attimo che allora questo è il giornaliero H4 vedete siamo sempre sulla media 21 il penente buy è stato triggerato in questo momento siamo a pochi punti di loss poi passiamo a New Zealand dollaro l'ultima coppia che vado ad analizzare in questa video analisi settimanale allora su New Zealand dollaro abbiamo questa bearish bat che ha dato i suoi frutti sono sell quindi sono sell e sul settimanale le indicazioni vedete praticamente c'è stata siamo partiti da questa zona di massimi rottura della media 21 test di 0.69 15 pullback della media 21 vedete rottura test rientro pullback sono entrato sell però in un ambiente giornaliero eccolo qua qua si vede meglio la situazione la situazione qua praticamente vedete abbiamo un classico tracciato fibonacci dall'ultimo movimento forte ribassista il prezzo si è fermato nell'area tra 50 e 61 8 ovviamente alla settimana c'è stata prima un forte venerdì un forte movimento short poi un rientro da parte dei compratori che abbiamo chiuso sulla parità su H4 eccolo qua su H4 praticamente c'è questo rientro da parte dei compratori però l'ultima candela è andata a vantaggio dei venditori ok bene con questo io termino la la mia video analisi settimanale abbiamo dato maggiore risalto questa volta alle 7 major mentre invece per quanto riguarda l'analisi delle altre coppie nonché anche altri possibili segnali di trading potete sicuramente ci saranno altre indicazioni durante la diretta live di lunedì e poi se ci sono altre indicazioni anche nella chat telegram ok grazie mille per l'attenzione e ci aggiorniamo ad lunedì mattina e nel frattempo vi lascio un buon fine settimana